Musica Ciao a tutti e questo è il video sui 10 fatti su Stephen King Il caro Stephen King è diventato il mio autore preferito, è diventato la mia ossessione Vi ho fatto la recensione di Misery, Rose Mother e Christine, la macchina infernale Vi voglio raccontare questi 10 fatti perché sono veramente molto ma molto creepy Il primo riguarda Carrie, il suo primissimo romanzo Io al momento l'ho letto, ce l'ho in lettura ma diciamo che l'ho leggermente accantonato perché non mi sta piacendo Comunque, Carrie rischiava di non vedere la luce perché non era tanto convinto né della stesura né del romanzo E non aveva assolutamente nessuna intenzione di pubblicarlo, tant'è che l'aveva cestinato Ma la moglie lesse l'opera che convince il caro King a pubblicarlo e da lì è nata l'ascesa Il fatto numero 2 riguarda la scomparsa del padre di Stephen King Che è scomparso dopo che costui era uscito per fare una passeggiata Non si sa più che fine abbia fatto, King è stato allevato dalla madre che faceva fatica ad arrivare a fine mese Il terzo fatto è veramente molto molto inquietante Pare che King abbia assistito alla morte di un suo amico travolto da un treno e di averlo poi raccontato Ma a oggi lui non ricorda assolutamente né di averlo raccontato né di aver assistito a quel fatto La quarta curiosità invece, il quarto fatto riguarda la scuola Perché King scriveva già da bambino Io penso che King già scriveva nell'utero materno Praticamente aveva una mini macchina da scrivere e con i ditini scriveva Quindi già quando era infante all'asilo lui scriveva E aveva un grande fiuto per gli affari Perché ai suoi compagni di scuola vendeva questi manoscritti per un dollaro La quinta curiosità riguarda il passato di King Nella sua biografia che spero di recuperare Conta il suo passato di alcol e di droga Fino al 1980 quando lui decide di cambiare totalmente vita La sesta curiosità è veramente inquietante Siamo nel 1999 esattamente il 19 giugno Stephen King viene investito da un mini caravan Che lo porta a cover di 3 settimane e a una lunga convalescenza King decide di comprare la macchina Il mezzo che lo ha investito per 1600 dollari Perché una volta che avesse ripreso le forze Sarebbe andato a distruggere la macchina che lo aveva investito Solo che gli avvocati la fecero demolire molto prima La settima curiosità riguarda il suo pseudonimo Che è Richard Becham Il suo pseudonimo che iniziò ad usarlo nel 1967 Per vedere se serviva a raggiungere lo stesso successo L'ottava curiosità riguarda King e una legge del Massachusetts del 2008 Praticamente questa legge vietava ai ragazzini di giocare a dei giochi troppo violenti Ma King si oppose a questo perché diceva solamente che era un mod per trovare un capro espiatorio Nella pop culture La nona curiosità invece riguarda degli attacchi Che King subì da dei blogger di destra Perché aveva offeso pesantemente l'esercito americano King si trovava in questa scuola Stava parlando, dicendo una Insomma stava tenendo una conferenza Beati quelli che hanno incontrato King E praticamente si era fatto scappare questa affermazione Ovvero che nella USA Army sono tutti degli ignoranti Questa cosa è stata presa con un grave insulto E questi blogger hanno tartassato il nostro caro King Dicendogli che non doveva dire questa cosa La decima curiosità riguarda la sua vita Lui vive nel Maine dove è nato e cresciuto E dove ha ambientato anche alcuni dei suoi romanzi Tipo per esempio Dolores Claiborne Il gioco di Gerald E tipo anche It e Insogna It e Insogna sono ambientati in una città chiamata Derry Che non esiste King l'ha inventata di sana pianta Bene, questi sono le dieci curiosità di Stephen King Fatemi sapere cosa avete letto di King Cosa state leggendo Se questi fatti insomma Vi hanno fatto paura Ma che paura Rubi cosa sta dicendo Non lo so Bene, io vi lascio e vi do appuntamento Al prossimo video Ciao